Sarà a Matera la location che ospiterà gli stati generali delle donne della Basilicata il prossimo 4 luglio. Un'occasione di confronto sulle idee e sull'apporto che le donne danno allo sviluppo sostenibile e dai saperi che le vedono protagoniste. Il programma della manifestazione è stato illustrato nella sede della Giunta regionale a Potenza dalla consigliera di parità Anna Maria Fanelli insieme all'assessore regionale alla Sanità Flavia Franconi. Tra i temi al centro dell'attenzione è quello relativo alla necessità della presenza delle donne nelle istituzioni che si può garantire come spiegato da Fanelli con la definizione di una legge elettorale paritaria. Tutte le donne sono invitate a partecipare. Le donne che dobbiamo portare nelle istituzioni devono essere numericamente rilevanti ma devono essere anche portatrici di competenze, portatrici di saperi, di quei saperi che metteremo sul tavolo proprio il 4 luglio a Matera. Anche su tanti altri argomenti. La sostenibilità di genere. Ancora sono proprio tanti. Il cibo nel sottotitolo degli stati generali è appunto il cibo. La terra, l'acqua, le donne testimonial dell'identità lucana. Perché? Perché a settembre noi porteremo i risultati degli stati generali a Expo. Il 26, il 27 e il 28 settembre saremo ad Expo proprio con un intervento su quanto le donne della Basilicata danno alla sostenibilità di genere, allo sviluppo dei territori, di quanto hanno sempre dato, di quanto attraverso la cultura dell'innovazione e quindi attraverso l'innovazione, la comunicazione e le tecnologie potranno sempre dare di più. Nel corso della conferenza stampa l'assessore Franconi ha anche annunciato per la metà del mese di luglio la firma di una convenzione tra Regione Basilicata e l'UNICRI, l'Istituto Interregionale delle Nazioni Unite per la ricerca sul crimine e la giustizia. La convenzione faciliterà uno scambio di informazioni utili per affrontare e combattere le tossicodipendenze con particolare riferimento alle donne.